Salve a tutti qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Due distruttori, due forze della natura inarrestabili o quasi, che sembrano caos e morte al loro passaggio. Due delle più recenti versioni di un mostro senza tempo come Godzilla. A chi mi riferisco, ma ovviamente a Shin Godzilla e a Godzilla Minus One, che oggi in questo nuovo video versus, faremo scontrare uno contro l'altro per capire chi la spunterebbe. Segnalo che qui sul mio canale trovate entrambi i film analizzati, se vi interessa approfondire. Inoltre vi invito a seguirmi sui social cercando Lorenzo Divus su Instagram e TikTok. Partiamo dalle caratteristiche dei due sfidanti, partendo da Shin Godzilla. Iniziando da Shin Godzilla. Shin Godzilla è una creatura molto particolare che passa attraverso varie forme che ne alternano l'aspetto e le abilità. Le prime due forme sono più legate all'acqua e ricordano un grosso pesce. La terza, e soprattutto la quarta, assumono la stazza e l'aspetto tipiche di un Godzilla, per quanto decisamente sui generis. Per il nostro versus scenderà in campo la quarta forma, quella appunto più gozilliana, passatemi il termine. Soprannominato Kamakura-san, questo bestione ha una stazza impressionante. Shin Godzilla è in grado di distruggere una città senza particolari difficoltà. La sua pelle è estremamente resistente, visto che non viene scalfita da colpi, da razzi o da proiettili di artiglieria. Solo le bombe perforanti anti-bunker, sganciate dai bombardieri americani, sembrano sortire qualche effetto, visto che riescono a farlo sanguinare. A livello di armi offensive, Shin Godzilla può emettere due tipologie di raggio atomico, uno più classico, dalla bocca, e può poi sparare dei raggi più piccoli, ma ugualmente devastanti, dalla schiena, utilizzando le spine e ossee per canalizzare l'energia nucleare che lo alimenta. In generale, i raggi atomici di Shin Godzilla sembrano essere simili a del plasma, visti gli effetti termici che sortiscono sugli oggetti che vengono colpiti. Anche dall'estremità della coda, Shin Godzilla può sparare un raggio atomico. Il raggio di Shin Godzilla è capace di tagliare in due grattacieli e palazzi come se nulla fosse. Inoltre, Shin Godzilla possiede una sorta di radar naturale che gli consente di indirizzare i raggi dalla schiena in maniera perfetta, abbattendo addirittura aerei e droni senza difficoltà. Come se non bastasse, Shin Godzilla possiede un rapido fattore rigenerante. Va però segnalato che Shin Godzilla non può usare le sue armi offensive all'infinito. Dopo aver sparato i raggi atomici in grandi quantità, deve ricaricarsi, entrando in una sorta di stasi che può durare fino a 15 giorni. A livello di intelligenza, Shin Godzilla non spicca né sfigura, soprattutto nella forma che stiamo impiegando nel versus. La sua carta migliore è la grande capacità di adattamento alle minacce che si trova ad affrontare. Questo va tenuto in conto nell'equazione del versus. Passiamo ora al Godzilla più recente, ossia Godzilla Minus One. A livello fisico stiamo parlando di un Godzilla piuttosto standard e affine alla versione originale della re dei kaiju. Anche Minus One cambia la sua forma. Inizialmente è simile a un grosso dinosauro teropode e poi, a seguito dell'esposizione alle radiazioni, cresce diventando un vero e proprio mostro distruggi città. Godzilla Minus One è piuttosto resistente. Proiettili di artiglierie e cannoni navali non riescono a scalfire la sua robusta pelle. L'unico vero punto debole è l'interno della bocca. Godzilla Minus One possiede inoltre un elevato e rapido fattore rigenerativo che gli consente di guarire in tempi brevi da ferite anche gravi. Nemmeno una violenta decompressione è in grado di mettere KO questo kaiju. Anche farlo a pezzi non ferma il processo di rigenerazione, un altro elemento importante da tenere a mente nel nostro scontro tra kaiju. Per quanto riguarda le armi offensive, Godzilla Minus One possiede una sua versione del soffio atomico. Dopo aver caricato l'energia attraverso il corpo, Godzilla Minus One emette un devastante raggio che all'impatto sortisce gli stessi effetti di una detonazione nucleare, in piena regola, con annessa palla di fuoco e nuvola a forma di fungo. Ciò che si trova nel raggio dell'esplosione viene annichilito. Anche Godzilla Minus One non può sparare tanti raggi atomici di continuo, necessitando di un tempo di recupero prima di utilizzare nuovamente questa devastante abilità. A livello di temperamento, Godzilla versione Minus One appare decisamente aggressivo e territoriale, tanto da attaccare chiunque gli capiti a tiro. Insomma, è una vera e propria furia devastatrice. In poche parole abbiamo a che fare con due creature potenti e distruttive, dotate di molteplici abilità devastanti. Ma chi vincerebbe in uno scontro diretto? Lo scenario che vi propongo si svolge, direi per ovvie ragioni, nella capitale nipponica, ossia Tokyo. Dalle profondità dell'oceano emergono ben due Godzilla, determinati a rivendicare il possesso territoriale. Gli umani sulla loro strada sono insignificanti. Shin Godzilla e Godzilla Minus One si fronteggiano in mezzo ai grattacieli. I due kaiju si osservano prima di partire all'attacco. Shin Godzilla è decisamente più alto e torreggiante rispetto a Godzilla Minus One, che quindi non ingaggia uno scontro fisico diretto. Entrambi in realtà preferiscono ricorrere alla propria arma più devastante, ossia il raggio atomico. Godzilla Minus One carica il raggio che colpisce direttamente Shin Godzilla, avvolgendolo in una esplosione nucleare. La pelle di Shin Godzilla fuma e sul suo corpo si vedono ustioni e ferite. Ciò lo porta a lasciare la battaglia per rigenerarsi e per tornare ad immergersi nelle acque della Baia di Tokyo. Intanto Godzilla Minus One continua nella sua opera di distruzione della città. Poco tempo dopo, Shin Godzilla riemerge dalle profondità in una nuova forma, una forma evoluta con lo specifico obiettivo di resistere contro il soffio atomico di Godzilla Minus One. La pelle di questo Shin Godzilla è ancora più resistente. Inoltre ha ulteriormente perfezionato l'abilità di assorbire le radiazioni dall'ambiente circostante. Godzilla Minus One comunque non perde tempo, carica il suo raggio atomico e BAM colpisce ancora una volta il suo nemico, ma questa volta gli effetti sono decisamente minori. Shin Godzilla spalanca le sue fauci, dalle quali comincia a fuoriuscire un'immensa fiammata che avvolge Godzilla Minus One. Il suo fattore rigenerativo istantaneo cura le ferite provocate dal calore, ma questo è solo l'inizio. Dalla bocca di Shin Godzilla si propaga un raggio di colore viola che impatta direttamente su Godzilla Minus One. Nonostante la notevole resistenza della sua pelle, il calore del raggio è tale che comincia a perforarla, finendo poi per trapassarlo da parte a parte. L'immenso corpo di Godzilla Minus One, ora troncato in due parti, si schianta fragorosamente al suolo. Shin Godzilla ruggisce trionfante ed emette raggi in tutte le direzioni, canalizzando l'energia attraverso le spine dorsali della schiena. Necessitando di tempo per ricaricarsi, Shin Godzilla torna nelle acque della baia di Tokyo. Il kaiju vincitore però ignora che il suo avversario sta cominciando a rigenerarsi. Insomma, nonostante le indubbie capacità di Godzilla Minus One, credo che in uno scontro diretto Shin Godzilla sia destinato a prevalere. Oltre ad essere più grosso, che male non fa, Shin Godzilla possiede la capacità di evolversi per adattarsi alla minaccia che deve affrontare. Ciò offre un immenso vantaggio in qualsiasi scontro. L'unica postilla che metto è relativa al fattore rigenerativo di Godzilla Minus One, che entra in funzione anche se le condizioni corporee del kaiju sono pessime. Credo comunque che, prima o poi, Shin Godzilla riuscirebbe a ridurre in cenere tutte le molecole di Godzilla Minus One, prevenendo quindi il ritorno del suo avversario una volta per tutte. Come sempre vi ricordo che questi video, pur partendo da elementi oggettivi, sono frutto delle mie personalissime opinioni e che non penso di avere la verità in tasca, anzi. Quindi, se non siete d'accordo con me, va benissimo, ci mancherebbe. Anzi, sono molto curioso di conoscere la vostra idea circa chi vincerebbe tra Shin Godzilla e Godzilla Minus One. Quindi vi aspetto nella sezione commenti per un po' di dibattito e confronto, sempre all'insegna, del rispetto e delle buone maniere. Mi raccomando. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Qui trovate vari video dedicati ai kaiju, ma anche vari versus. Sbizzarritevi. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa a PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie!